Around Love Sick Duo, l'episodio 44 abbiamo William Piana, William Piana in the house con doppia cuffia. Doppia cuffia, grazie dell'invito, io sono sinceramente emozionato perché qui mi si sta rubando il lavoro, vedo una presente che non riuscirei io. Ci rubano il lavoro. Sì, non è giusto. Aiutatemi a casa mia invece che rubarmi il lavoro. Facciamo partire la sigla. Eccoci qua, eccoci qua. Abbiamo un vero speaker radiofonico. Noi siamo molto emozionati. A chi lo dici. Abbiamo oltretutto la possibilità di comunicare veramente in diretta ma anche in video e per il video ho portato la doppia cuffia apposta. Doppia cuffia, ringrazio Eugenio Maria Bortolini che mi ha diciamo omaggiato di questa realtà che è da influencer, il quale non sono. Come ho detto fuori onda mi fa sentire un po' come Charlie Chaplin nel grande dittatore con una divisa da gerarchia, no? Allo stesso modo io porto una cuffia da influencer perché non ci crede nessuno, non ci credo neanch'io. Ogni tanto qualcuno ma... no, non posso, non c'è. Però mi piace, ma è bellissima. Ma è molto bella. Tra l'altro l'ho portata anche con un po' di vanità perché dalla radio non è che si possa avere... Proprio vedere. Diciamo che alcuni stanno come state facendo voi creando queste situazioni. Non è il mio caso perché sono di un'ignoranza sisifea per quanto riguarda tutto ciò che è informatizzazione, video, social e quant'altro. Ci provo, cerco di partecipare. Più che altro la mia è una partecipazione ma non è così continuativa, è così seria e concreta come avere tutta la strumentazione. Libertà e partecipazione, diceva Gama. Ah, che meraviglia. È certo. Allora William Piana è uno speaker professionista. Eh, ahimè. No, dobbiamo anche categorizzare perché noi non lo siamo. Intanto condivido la puntata, non l'abbiamo detto. Condividetela su Facebook così anche i vostri amici possono vederla. Dopo la condivideremo anche su YouTube, quindi se cercate il canale Love Seek Duo troverete anche questo episodio, tutti gli altri episodi che abbiamo fatto l'anno scorso e poi ci sarà anche su podcast, su iTunes, su Spotify. Insomma, c'è i modi per godere della musica, ormai ce ne sono talmente tanti che la gente non sa più quello. Non so cosa fare, ma oggi ne parliamo di musica. Sì, sì, dai. Ma William, tu suoni anche uno strumento o no? Io non so suonare nulla ed è anche per questo che sono contento di dialogare con voi perché non ho mai suonato niente. E quando sento che i DJ vanno a suonare mi si accaponna la pelle. Io faccio il DJ, sono speaker DJ, metto i dischi al torione, metto i dischi in situazioni, insomma. E quando dei colleghi dicono ma stasera dove sei a suonare? No, io non suono nulla. Io propongo una selezione musicale, mixata ovviamente, cerco di mettere assieme i brani, ma suonare voi. Ecco, voi suonate. Ma sai che io non sono mai stato, è una roba che non mi ha mai troppo toccato quando viene usato erroneamente questo termine, o meglio. Pensandola in inglese spesso, questa cosa qua non esiste questo problema, perché è play. E quindi sia suonare che mettere i dischi sarebbe diventata la stessa cosa. Ma io sono pesante, sai, io sono un'antipatia folle, per cui questa cosa è più antipatica per i miei colleghi che mi dicono ma no, non è vero. I musicisti mi dicono loro stessi no dai Willy, esattamente, anche tu, con una sorta di compassione, hai capito? No, anche tu suoni, poi si danni i gommi, vero che suona? Occhietto, amico. Hai capito? Però io stesso mi definisco al di fuori del musicista, perché non... Infatti mi avete chiesto di portare dei dischi ben contento, l'ho fatto. In verità hai delle copertine, poi forse dentro c'è anche il disco. No, 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 confermo che c'è il disco, guarda, adesso lo estraiamo. C'è come, possiamo far vedere qui, abbiamo John Coltrane, 1964, a Love Supreme, il disco c'è. Non posso con l'unghietta qui farlo girare, magari esce anche la produzione del film. Hai molti vinili tu, William? Eh, cinquemila circa. Veramente? Sì, no, non sto millantando assolutamente, ci mancherebbe. No, dicevo, perché siamo arrivati a parlare dei dischi, perché chi arriva poi a parlare di musica e non ha mai suonato nulla, può risultare anche pesante, hai capito? Però la mia è una grande passione, che mi ha salvato la vita più volte. Più volte. E quindi continuiamo. Beh, le tue grandi passioni, poi dopo ci dici te se ne vuoi aggiungere delle altre, sicuramente c'è il basket dentro. Questa è una ex passione, dalla quale continuo a parlare, perché essendo un passatista della pallacanestro si parla di basket vintage, è un termine che a me non piace, è un termine che io detesto. Diciamo che adesso non è più pallacanestro, la pallacanestro muore nel 1986, secondo me. Come mai? Sì, perché c'è una sterzata, ne abbiamo già parlato, ne parlerò anche domani, decisamente con Michael Jordan ci sarà una cesura per cui il gioco cambierà assolutamente incentrato più sull'individuo, piuttosto che su un contesto di gioco, di tra virgolette schema, flex offense, è qualcosa di molto più settario. Questo non deve confondere, cioè Michael Jordan è stato uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, è un fenomeno, è probabilmente inconsapevolmente responsabile di questo. Questo era il suo basket, questa è stata la sua rivoluzione cestistica, giocatore incredibile, ma che ha dato un netto taglio a tutto quello che c'era prima, come Raffaello ha dato la maniera, come in seguito Degas ha dato il post impressionismo. Insomma, sono questi grandi nomi che hanno fatto delle rivoluzioni, molte volte non sanno nemmeno loro di farle. Certo, loro portano avanti un loro sentire, una loro idea, un loro modo di stare. Dopo sono i tempi, loro sono precursori di qualcosa, è detta, come Miles, anche Miles. Il commercio è stato, hai capito, perché lo stesso Jordan quando si presentò con le Nike, con queste e i ragazzini che impazzirono, questo aiutò molto a dire, beh ok, questo oltre a essere un fenomeno, guarda un po' quanto ci fa vendere. Per cui perché no? Se possiamo, aiutiamo questa corrente. Dici che prima c'erano meno numero 10 del calcista. Bravo, questa è un'ottima osservazione. I fenomeni c'erano allo stesso modo, probabilmente e tecnicamente anche più forti. Larry Bird è stato il più forte giocatore di pallacanestro di tutti i tempi. E chiaramente questo però ha un approccio completamente diverso rispetto a quello di Jordan. Cioè è un approccio che coinvolgeva, seppur da grande carisma che Larry Bird ha dimostrato, coinvolgeva una situazione d'insieme. Ma questo era il playmaker lui, no? Beh, lui era, poteva oscillare nel ruolo di ala sia vicino a canestro, nasce come numero 4, come ala forte, poi si allontanerà da canestro. Era lui che giocava con le All Star. Lui giocava con le All Star, giocava col 33, giocatore fortissimo. Giocatore secondo me più forte di tutti i tempi. Adesso è una situazione di insieme che bisogna andare ad analizzare. Michael Jordan farà un aspetto più individuale, seppur restando una... Ma tante cose possono essere... Chi è il Michael Jordan del jazz? Non c'è un Michael Jordan del jazz, c'è Michael Jackson. Non esiste il Michael Jordan del jazz. Mi piace la risposta a Michael Jackson, spacca. Perché lo stesso Michael Jackson cambierà completamente grazie all'aspetto commerciale, grazie all'aspetto visivo e grazie all'aspetto del one man show. Quello che era una situazione di insieme. Quindi a me piace molto, probabilmente se mi fate queste domande è perché seguite i miei format. Michael Jackson, io sono un grandissimo fan. Allora, se non sapete quali sono i format di William Piana, di cui si parla, potete comunque conoscerli perché lui è speaker radiofonico di Radio Fujiko, Jets Live è la sua trasmissione principale, no che lo potete conoscere al Torrione, in diverse occasioni legate al Jets. Breakfast Club, ogni mattina dalle sette e mezza alle nove il Breakfast Club, domani si parlerà di pallacanestro e musica del 1986, quindi anche di Michael Jordan. Non so se è stato casuale l'argomento, però, scusa un attimo, se vai a mettere i dischi di sera e alle sette e mezza c'è la trasmissione, non dormi. Capisci perché ho scosso un po' i cerchi per questa diretta. Ma proprio perché io di solito dormo. No, no, ma infatti, quindi le ore di sonno per chi fa il mio lavoro sono un pochettino e soprattutto per chi si deve alzare anche, che ha una diretta alle sette e trenta. Come quella volta che Paolo non si alzò. No, è vero, una volta lui e me ci erano messi d'accordo, no, ti telefono la mattina, si è, telefono squilla, non avevamo dormito niente, eravamo a suonare, ovviamente dicevo con la frase, tipo, ma chi è che mi chiama? Hai capito chi era? Un minuto dopo connesso i puntini, era già finita la trasmissione. Vai tranquillo. Pessimo. Tanto la chiacchiera ce l'abbiamo. Sì, ci hai messo un po' per unire i puntini. Dio, ma... Dall'1 al 40. Pensa che è differente. Lui è arrivato a tipo tre minuti in ritardo, ma no, ma... È così. Io avevo scritto questa cosa però, tra i miei appunti, poi è venuta naturale, no? Avevo scritto William Piana, speaker radiofonico versus giocatore di basket, perché mi piaceva, tipo, nella mia vita, quando io ho smesso di giocare a softball, è perché mi volevo impegnare nella musica e mi sono sempre un po', ho sempre un po' preso dagli allenamenti del softball, dal gioco di squadra e le ho portate nella musica, no? E ogni tanto quando nella musica mi dimentico certi particolari, ritorno a quegli anni, no? Ve ne ho vissuti 17 alla fine di sport e volevo sapere per te se io ti dico speaker radiofonico versus giocatore di basket, come la vivi? La vivo in maniera anche un po' confusa, ma allo stesso tempo con tanta voglia di fare, anche se adesso sono molto impegnato. Ti spiego anche il perché. Ho assistito a uno spettacolo meraviglioso di Andrea Santonastaso, che voleva fare il fumettista. Diventa attore e porta in scena la vita di Andrea Pazienza. Allora, allo stesso modo, io che dovevo essere cestista e divento speaker radiofonico, volevo creare una narrazione dedicata al pallacanestro degli anni di cui vi sto parlando, ma che però non avrà mai una realizzazione e diventerà qualcosa che però viene raccontata con la musica ovviamente attinente a quegli anni, però a un microfono. Quindi è un processo ciclico, continuo, reiterato, al quale penso sempre. Cioè, maledetto, sto facendo pace adesso, ma probabilmente continuiamo a litigare. Ti dicevo di un virus. Quel virus lì è un virus nel bene e nel male, non lo toglierò mai. Ho giocato, non ricordo neanche più quanti anni, mi allenavo 6-8 ore al giorno. Mi allenavo con George Bucci, Leon Douglas, John Douglas, ho giocato in fortitudo. George Bucci è il, secondo me, tecnicamente parlando, ma non vi voglio tediare con questo. È stato il più grande giocatore che ho abbia mai visto e toccato con mano. Ho vissuto al Palazzo dello Sport. Poi, improvvisamente, in tutto questo mondo, che è molto, molto chiuso in questo tunnel, non è nel mondo dorato che uno può immaginare, quando poi ti rendi conto che ci sono delle altre situazioni meravigliose in questo pianeta, alla fine poi ne esci e vedi e vivi e realizzi che è stato anche un po' limitante occuparsi di questo per così tanto tempo e non diventare accampare di tutto ciò. Anche perché ci deve essere un bel commitment, un bel sacrificio, un bel... Sacrificio infinito, sacrificio infinito, infinito. Poi, sì, liberamente sei, a parte il sacrificio, quando arrivi predisposto o individuato per quel tipo di vita lì, si va in quei locali, si frequentano quelle persone, ci sono quelle ragazze con le quali esci, se tu esci con... ma quella non è... insomma, diventa veramente una lobby, diventa veramente quelli del giro del basket. Magari le cose sono cambiate, me lo auguro, ma ai tempi era anche dovuto al fatto che uno sentiva tutto ciò come una casa, perché ti puoi immaginare un bambino di 10 anni alto 1,77? Eh? Ok? E quanto sono cattivi i bambini e gli adolescenti che ti indicano, ti allontanano, poi sai, non è... è un aspetto, se vogliamo, sì di deformità, ma che non è, tra virgolette, limitante come può essere. E' più facile prendere in giro uno alto che uno basso, cioè è più facile, è molto più facile, la colpa se succede qualcosa le dà il più grande, è sempre del più alto, ma come tu che sei il più alto fai questo, ma come tu... mi ricorderò sempre di una bidella che mi strattonò e mi buttò in fila con quelli di quinta e io gli dissi ma no, sono di prima, e lei mi strattonò ulteriormente e mi disse smettila di prendermi in giro, io sono di prima davvero, quindi alla fine trovi casa, perché ci sono altri ragazzi alti. Un po' come gli X-Men, no? Hai visto il film degli X-Men, no? Guarda caso sono i miei supereroi preferiti, non è un caso, a parte le sonorità, a parte la bellezza, la naturalezza con cui mi sono avvicinato a tutto ciò, ma non è un caso che la mia cultura iniziale sia una cultura black, perché in loro ho visto la segregazione, quanto sei alto William? Due metri zero cinque, due metri zero cinque, quindi sai, adesso ovviamente anche questa è una cosa con la quale ho fatto pace ampiamente, o probabilmente non ci ho mai neanche litigato, però la vedi, la vivi, la vivi, cioè la... Poi in quelle altezze lì, in pochi centimetri, cioè io quando vedo... In quelle tali? Sì, no, stavo parlando in generale, in questa altezza è da 2,05 tipo a 2,15, ci deve essere un mondo. Sì, c'è un mondo, mi sembra veramente quando parlo con Fucca, altro atleta che è 2,15, sì, sembra il mio fratello grande. Vedi come io vedo terra, sì. Sì, esattamente, esattamente, lo vedo, non lo vedo con quanto è lungo, giocavo con un ragazzo che saluto di 2,22 metri, Tonino Fusche, e anche lui, ho una fotografia insieme a lui, siamo veramente, io sono un piccolino, però ribadisco il concetto dell'affezione alla palla canestro molte volte anche in tutto ciò. Io sono un po' una mosca bianca in questo, non ho giocato e non ho iniziato a giocare, poi ho visto che le due cose si abbinavano e quindi le ho messe insieme, ma non perché, dico sono alto quindi trovo rifugio lì, no, assolutamente, giocavo, mi piaceva, ero bravino e tante altre cose, capito? E poi da questo cresci, mi piaceva e mi piace, mi piace tantissimo leggere, quindi leggevo, mi piace tantissimo, anzi mi piace, va da sé, la musica e quindi stavo delle ore con la radio e il registratore a bobine, con i due autoparlanti, uno attaccato all'altro, quando non ero allenamento cercavo le stazioni che mettevano su funky disco per preparare le bobine che poi davo alle ragazze cercando di avere le loro simpatie, hai capito? Non accadeva perché stavamo entrando negli anni Ottante, andava molto la New Wave, io invece sono rimasto più agli anni Settanta, ho sbagliato anche lì, hai capito? In ritardo di una decade, mi sono salvato con il termine degli anni Ottanta, finalmente sono finiti, grazie al cielo, e arrivò, sono durati lunghi, eterni, eterni, e poi e poi, quindi Talking Low, da C-Jazz, Soul Society, dopo arriva appunto la sonorità di intersezione tra anche l'elettronica se vogliamo, con il soul, con qualcosa di gusto legato all'hip hop, e da lì c'è stato, ma allora si può fare musica nuova e che abbia qualcosa di interessante? Quindi dico, oh, ce l'ho fatta ad ascoltare qualcosa che non sia, per quanto riguarda le novità, Michael Jackson o gli Style Council, non ce l'ho mai fatta ad ascoltare. Io spesso quando ascolto la musica degli anni Ottanta, che mi piacciono vari artisti, magari per il songwriting, la scrittura, le parole, sta roba, in qualche modo, mannaggia, devo sempre mettermi un filtro, nel senso tipo, eh, se avessi avuto dei suoni più, eh, ascolto il brano, tipo, pensando più a, o solo il testo, la melodia, gli accordi, eccetera, filtrando un pochettino certe cose dei suoni, che c'è una testa esperimentica, non so, tipo Billy Joel, a me piace, no? Beh, Billy Joel, no, ma tu stai citando delle cose di una certa Billy Joel grande, eh? Non è che conosco poi neanche troppi lati bini di quegli anni, però intendo di tanti autori così, però ci sono tanti pezzi suoi che, insomma, devo mettermi un pochettino un filtro della serie, eh, magari se tipo non facciamo questo esperimento su questo suono, veniva proprio ancora più bello per me. Beh, Billy Joel è stato, secondo me, per quanto riguarda il pop, molto raffinato, gli stessi Daryl Law e Joe Noz, di cui ho dato, così dicevo, anche Daryl Law ha una situazione come la vostra, e chiacchiera con amici, come stiamo facendo noi adesso. Quello del pienile? Non so, se è un cappannone o mi dà l'idea del pienile, c'è lui, questo biondone che canta, intrattiene, con vecchi successi di Daryl Law e Joe Noz, oppure anche cose nuove, il batterista dei Roots ha partecipato a queste jam session, che sono quanto mai gustose e belle, quindi ci sono state delle cose valide, per cari. Sì, sì, no, 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 no. A Round Love Seek Duo... Non parlerà più di anni, non metterà musica agnotata, sappiate. Solo il meglio del meglio. Abbiamo William Piana, condividete la diretta, lasciateci un commento per dirci da dove state guardando, che vediamo che ci sono un po' di persone connesse. Noi siamo a Bologna, e vediamo Luca Paganini. Ciao Willy, d'accordo su tutto sul basket e non solo. Con un occhiolino, attenzione. Lui è un grande atleta, tra l'altro. Abbiamo condiviso momenti sul playground, perché è importante il playground. Il playground è il paradiso, un po', se vogliamo, per gli atleti che si sentivano castrati in questi allenamenti, per amare nuovamente, per avere ancora un idilio con lo sport, il cortile, il playground, gli amici, gli amici più grandi. Il campetto. Io avevo la piazzetta. Io lo chiamo anche, esatto, accidenti a me, il campetto, se dico playground, ma è il campetto. Dai ragazzi alle quattro al campetto. No, andavo sotto il ponte di via Libia, era una cosa chiamato il campo dei lunghi coltelli, c'era da aver paura. Il campo dei lunghi coltelli, saluto Gianluca Poca Robba, saluto Bersani, Vitale. Non sono spacciatori. No, sono atleti, sono ex atleti. Ah beh, erano i maledetti anni 80, in cui io piuttosto che ascoltare Joy Division, Durano, Spandau Ballet, io mi mettevo su Marvin Gaye, palla da basket, cuffiette, cioè io ero un bro del quartiere. C'era l'artina o non c'era l'artina? Di catena. No, no, sto scherpando. Io ricorderò sempre questo episodio meraviglioso, perché tra l'altro adesso, sempre dire così, diventa una roba. Ah, com'era verde la mia valle, perché io saltavo i fossi per la lunga. Se sto parlando troppo, dite... Bucavi i palloni con le siringhe. Esatto. Fesissimo. È un'immagine abbastanza agghiacciante. Mi immagino lui, la palla che rimbalza e lui ha una siringa tra i due dita e fa... Ah, bucata. Ah, bucata. Hai capito? Beh, fatto sta che a 14 anni mi ritrovo che c'è il canestro, quello dei tristi, perché c'era il canestro dove giocavano i buoni e c'era il canestro dove dei ragazzi più giovani. Era leggermente inclinato. Allora dico, sai cosa? Che io, con una palla un po' più piccola, per me, io schiaccio. E schiacciare nella... Insomma, è veramente una situazione di piacere carnale, no? Riuscire ad andare a mettere la palla... Prendo i tempi giusti, faccio tutto bene, attenzione, schiaccio. C'è quel momento tra i coetanei per cui... Non è tanto Willy ha baciato una ragazza... No, no. Willy schiaccia. Ti puoi immaginare, lo voglio far sempre. Solo che l'emozione, perdi il tempo. Una cosa o l'altra. Di là c'erano i grandi. Comincio a impattacarmi contro il ferro. Guardate come è un'immagine della vita. È in un attimo dalle stelle alle stalle. Sono fino a cinque minuti prima Willy che schiaccia. Comincio a inclinare ulteriormente il ferro. Si sospende la partita di là. Arriva Massimo Vitale, che saluto. Alessandro Vitale. Questo energumeno che allora vicino a me è un energumeno. E mi prende per la maglietta e mi dice davanti a tutti, eh? Pezzo di caramella. Quando l'hai rotto sei poi contento. Io, ghiacciato, mi cade la palla. E no, no, scusa. Zitto, vado in un angolino. Grande imbarazzo. Nessuno mi guardava più. Io dopo ho continuato a fare dei tiri da solo. Ma quello veramente. In un secondo hai capito? Sei quello che... Gesto atletico clamoroso. Cinque minuti dopo sei... Bella figura. Vado a casa a mangiare la pasta asciutta. Vado a casa a mangiare, sperando che mia madre, come al solito, non la scuocia. Non ho capito. Per cui è un attimo. Attenzione, nella vita è un attimo. È un attimo. Bene, allora raccontateci anche voi nei commenti qual è stato l'attimo in cui vi è finito un momento d'onore o top o di gloria. È una cosa che succede anche alle gem station, comunque cose di questo tipo. A me? Sì, sì, sì. Fai il pezzo che ti senti l'eroe. Poi dopo sale uno su con te e ti... E' successo allo spazio in due una sera. Partiamo, primo pezzo, Chiroki. Ah beh, grande. Vai. Capito? Perché a me c'è il mio orlismo. Cioè, mi hanno ucciso. Ucciso. Proprio mi hanno messo lì in coroce. Adesso ci pensiamo noi. Ci pensiamo noi. Prendiamo bene la mira. Cosa partiamo? Ci riguarda... Ovviamente è morta. Finita. E poi cos'era? Non è solo che la velocità, il pezzo, è anche quanti solisti ci sono. Perché se te suoni, sei un solista e dici, vabbè, mi faccio il mio solo, poi mi... Se te suoni il contrabbasso alla batteria, devi stare lì fino alla fine. Ah, certo. Quindi... Il timing è il timing. Quanto deve durare questo pezzo? Non finiva più. Tu vedevi arrivare sassofoni, trombe, sassofoni, chitarristi. Armoniche. È l'esercito della Ida, quando si presenta. E tu dici, ok... Se l'unica pausa che puoi avere sono o gli scambi con la batteria o il suono di batteria, praticamente, perché se no... Se no sei finito. E quindi io finì... Mi sono dato lo spazio. Quella sera andai a letto alle 4. Ricordavo che poi il venerdì mattina c'era musica di improvvisazione alle 9. E io arrivai a musica di improvvisazione, non riuscivo a suonare dal male. Dal male delle dita. Quindi sembrava che io fossi più inetta, capito? Ormai non sapessi più, non suonava più niente. Mamma mia, che situazione. È così. Dall'inizio... Eh, dai, andiamo, bello, ci facciamo un blues, così. E poi dai, facciamo Circo. Circo è anche un pezzo un po' bastardo, perché... Ci sono tanti pezzi veloci che hanno le melodie a canna, ma Circo ha una melodia con le pallone, no? È bella lenta, così. Non la puoi neanche fare un po' più lento, non più di tanto, perché sennò sembra un po' che non funziona. Se prendi magari un pezzo di parco, tipo... Non so, antropologi, se lo fai un po' più lento, beh, funziona lo stesso. Ornitologi. Ornitologi, antropologi, tutti quelli che girano, lo fai. Perché in base a un blues è molto più articolato, quindi se tu, no? Cioè, ti interpreta di tema in un altro modo, lì, no? Ma che meraviglia, però. Beh, anch'io ho detto la stessa cosa. Dopo no. Vedete com'è un attimo passare dalle esperienze sportive a quelle di jam session e trovarci con... È sempre meglio di suonare Superstition, comunque. Beh, anche quello è un grande gru. No, ma scherzo. No, no, è una battuta perché è uno dei pezzi banditi dalle jam session. Ah, immagino. Immagino. È come quei negozi di musica che ci hanno scritto, tipo, un cartello dalla zona chitarra. È vietato suonare Starway to Heaven. No, è Smoke on the Water. Starway to Heaven e Smoke on the Water. E tutti, anni 90, tutti suonavano solo per provare la chitarra, solo Smoke on the Water. Questi sono degli standard. Sì, sì. Quei due lì sono proprio vietatisi. Chissà quante chitarre hanno spaccato. Che poi inizia. No, non puoi vincere. No, poi il bello sai cos'era. C'erano anche alcuni che sbagliavano e dice no, ti prego almeno falla giù. Quello che dico è che non puoi vincere perché anche se la fai bene, dura talmente tanto che a un certo punto devi gettare la spugna. Sì, sì, ma se tu sbagli già le prime due o tre noti, che già quello sente che stai per fare quella canzone e dice già la odio, poi sbagli, cioè è ancora... E poi com'è possibile alla fine lo fai e ti ritrovi a bucare clamorosamente se la fai? E' in difficoltà, chiaramente, o è uno che è un gran manico e quindi si cimenterebbe però con qualcos'altro. Schiacciare è difficile. Schiacciare è difficilissimo. Quando sei lì che sei provando la chitarra, non è che puoi sempre schiacciare. No, no. Poi avere la vola di fianco a te di chitarra. Bene, c'era un'altra domanda che avevo scritto legata a questa, vizi e virtù. Attenzione, vizi e virtù di William Piano. Perché a me i vizi piacciono molto e le virtù invece io spesso le svaluto. Magari, non so, tu come... Beh, vizi ne avevo ultimamente poi invecchiando, mi illudo che siano sopiti, probabilmente non è così. Sono molto triste di aver smesso di fumare il 13 settembre del 2013, me lo ricorderò sempre. Secondo me era bello fumare, però non ne ho più voglia. E quindi io ogni tanto dai ragazzi che lavorano con me, dico mi fai fare la sigaretta, magari mi torna... Ero bravo, le facevo con una mano sola, dico ero bravo a fare le sigarette. Dico e dai fammela fare a me, magari mi torna voglia di fumare. Anche intanto che la faccio perfetta, tutta me la metto a posto. Faccio queste creazioni artistiche, con questa manualità da certosino, nonostante i badili. Gli origami. Sì, e niente. Molto grande. Poi dico... Però... Ma la tieni la palla? Vai, basta. Sono le domande tipiche, maschiacci. Io gliel'ho fatta su Radio Fusica. Maschiacci, hai capito? Maschiacci. L'onore. Oddio. È bellissima. Maschiacci è bella. Maschiacci. O maccioli. Senza la frana sarebbe venuto fuori mai. E quindi non ti viene più voglia? No, niente. Più voglia di fumare. Come Bizzi purtroppo sento che mi fa un male incredibile e devo riuscire. la Sambuca. Sei uno da dolce? Sì, ho trovato questi cannolini da un forno in via Emilia Levante. Io proprio sto avendo un aliason con la fornaia perché praticamente spendo tutto lo stipendio in questi cannolini. Quando viene qualcuno alla mattina in radio per far bella figura, ma adesso non li porto più, pensate che livello di dolce mi piace. Quando mi fa, no, ho il diabete solo per averlo assaggiato. Brucia. Sì, ho le cacce, ho i denti che mi si stanno consumando. Io mi rendo conto che sono dolcissimi. Sono questi cannolini con la pasta fritta e dentro una crema di latte incredibile. una roba strampalata. Anche questo è un vizio, cioè quello della roba dolce. Ma fumavi quando stavi a basket? Come un turco. Come un turco. Proprio old school, con la paglia e il canto. Io paglia. Sì, sì, certo. Come quelli che vanno in motorino con una mano così, il telefonino sotto il casco e la paglia. Non si smette mai. Ah, che dire, quello è vizi, vizi, la sambuca, la roba dolce e poi i 5.000 vinili. Eh beh, quello però è una virtù. Ah, quindi tu lo interpreti come virtù. Vedi, è bello perché uno dice io le virtù le penso come, non so, la simpatia. No, quella purtroppo quando la distribuivano l'ho lasciata a casa, cioè ero in bagno quando il buon Dio distribuiva. È per quello che sei un influencer. Esatto, vedi. Ma infatti perché mi avete chiamato? Io non sono simpaticissimo, poi parlo sempre. Ma io ho molto piacere, quelle volte che siamo venuti in radio mi sono sempre divertito molto e ho detto adesso chiamiamo un vero speaker. Infatti facciamo, io ti volevo chiedere, aspetta vediamo perché senza leggere non mi ricordo mica niente, due robe. Dai, una. Una, consigli per neofiti ascoltatori di jazz. Ah, bella domanda questa, grande domanda. E anche per me. Allora, non ascoltare me innanzitutto, ma non ascoltate me, anche perché come ho detto in apertura non so suonare alcun strumento e adesso il jazz è diventata una realtà quanto mai vicina al ragionare in jazz, non a suonare il jazz come siamo tra virgolette abituati a vedere nella tradizione. La tradizione è un mainstream che viene proposta come revival, si può fare con grande capacità, con grande maestria e con grande talento, per carità anzi io l'apprezzo. Ma se parliamo di jazz in maniera così, e spirit di jazz in maniera assolutamente più olistica, bella sta parola che comprende tutto, no? Dobbiamo ragionare in jazz perché non esiste più l'idea del hardbop, cool jazz, pre-jazz, modale, bebop e quant'altro. Sono cose che appartengono a un passato. Adesso addirittura la musica ha una preparazione accademica, quindi ci dimentichiamo chi suonava così Charlie Parker o chi suonava nell'immediato come Tellonius Monk. Adesso tutti suonano tutto, per cui la ricerca mette insieme rock, mette insieme funky, mette insieme hip hop, mette insieme anche sonorità che vengono da altre culture e tradizioni. Più che altro in jazz adesso si ragiona, si mette insieme la classica, la contemporanea. Sì, assolutamente. Quindi quando uno si avvicina al jazz e io accompagno la grande fortuna, chi mi sta salvando la vita, non stanno ascoltando e fanno bene perché sono giovani, forti, belle, ma chi mi sta salvando la vita sono delle ragazze di poco più di vent'anni che si sono avvicinate alla radio e hanno cominciato a seguire un percorso che spontaneamente abbiamo voluto preparare insieme. Loro mi seguono al Torione e ogni volta che magari qualcuno si aggiunge o un'amica o uno amico, io il consiglio che do sempre è non cercare di capire quello che stai ascoltando, non cercare in assoluto di fartelo piacere. In questo momento ti stanno raccontando una fiaba, per cui nella fiaba ci sono momenti dove tu sarai in difficoltà, dove tu ti sentirai smarrito, ci sono momenti invece dove sarai più appagato, dove sarai commosso, dove sarai intenerito, in altri dove sarai addirittura felice e soave. L'importante è capire in questo percorso le emozioni che la scrittura ti dà. E questo è fondamentale, secondo me, è riuscire anche a capire se la parte più ostica è un accompagnamento a farti scoprire la parte più bella. Quindi non c'è da capire, tra virgolette, quello che è un aspetto modale, un aspetto contemporaneo, la scrittura verticale, l'insieme di interplay con gli altri musicisti. Questo arriverà, questo arriverà. L'approccio che tu devi avere, ovviamente devi avere una passione, una certa sensibilità, aver ascoltato musica, avere la curiosità e basta. Secondo me, io quello che consiglio per ascoltare jazz è questo. Il tecnicismo nel jazz non porta bene in questo momento. Ti parlo di critica e quindi di chi fa il mio lavoro. Il tecnicismo non porta bene. E seguitelo perché lui è un influencer. Esatto. Perciò non dovete chiedere. Non abbiate i dubbi. Esatto. Cioè, cosa c'ho scritto qua? Influencer. E allora un motivo ci sarà, no? E voglio dire. Bene, benissimo. Che dire. Concludo semplicemente con l'altra faccia della medaglia, che è quel jazz che vi immaginate con Renzo Arbor e il clarinetto. Che è quello legato all'aspetto più primario, più immediato e più stereotipato. Certo, esiste una tradizione. Viene anche portata avanti. Ma non si parla di questo quando parliamo in maniera più totale e aggiornata di jazz. E quindi, che dire. Venite questa sera al Torrione perché Willy sarà a mettere i dischi. Ci sono. Io sono a mettere i dischi. Non ce la farei questa sera dopo la mattina alle 5. Ah no? Questa sera non sono di turno a mettere i dischi. C'è un mio amico, un mio collega, un mio caro amico. Io ci sono il prossimo lunedì dove il progetto Yoruba di Andrea Grillini. Uh, bellissimo. Batterista. C'è anche Filippo Reffice. C'è brava, esattamente. Stasera c'è una tua grande... C'è Rosa. No, Federica Michisanti. Ha vinto il Top Jazz 2018 come musicista più promettente in ambito di jazz. È una contrabassista. Siamo tutti curiosi. Poi è bello perché nasce questo clima da stadio, no? Il Jazz Club Il Torrione che è... Il Torrione è a Ferrara, quindi se qualcuno vuole sudare è a Ferrara. È proprio una torre. Sì, è una torre medievale del 1500 sulle mura, dove se non siete mai stati vi invito e vi offrirò anche l'accento. Non sto scherzando. No, no, no. Io non sono mai stato. Ti piacerà? Andrò. A che ora suona stasera? Alle 9? Lei alle 9 e mezza, 9 e 40. Non ci riesco. È un concerto dove siamo veramente tutti compresi ad ascoltare. Si presenta con una formazione, pensate, che è tromba e sax tenore. Lei, tromba e sax tenore. Bello. Cioè, è bello strano, perché è molto particolare. Io ho sentito il disco che mi è arrivato in anteprima, è un disco tutto di contrapunto, quell'altro era un disco più di chiaroscuri, quindi più tondo, hai capito? Questo qui è un po' più spigoloso. C'entra molto l'aspetto visivo per alcune note, per alcune sonorità. E' basso elettrico o contrabbasso? Contrabbasso. 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 Quando ti ritrovi in queste situazioni l'aspetto visivo conta molto. Sei in questa torre che diventa un jazz club dove sotto c'è il momento del convivio, mangi, incontri gli amici. Cioè, no, è il più bel locale che ho mai, lo dico ogni giorno e lo ripeterò sempre. Cioè, Bologna se lo sogna una cosa del genere. Peccato, peccato anche che Ferrara stia vivendo un momento un po' di preoccupazione, perché è una città, non mi stancherò mai di dirlo, lo ripeto anche in questa circostanza, è veramente una capitale della cultura. Con grande umiltà, tra l'altro, gli operatori della cultura si propongono a te. A Bologna non abbiamo questa umiltà. Ed è una cosa abbastanza così che mi mette... Cosa intendi? Cioè, tu entri al Torione, che è un locale che è segnalato a livello mondiale come uno tra i primi posti dove ascoltare musica al mondo, e sei veramente accolto come una persona che ha sempre fatto musica, si è sempre occupata di musica, con una grande umiltà vieni coinvolto, ti presentano i musicisti, ti ascoltano, cercano assolutamente di coinvolgerti e cercano di creare una grande famiglia. Le stesse sensazioni in un posto, tra virgolette, così riconosciuto, che magari ha sede a Bologna, non ce le ho. Cioè, non siamo sinceramente e positivamente avremmo bisogno, secondo me, in un momento come questo, di essere più provinciali, tra virgolette. E non lo siamo, secondo me. Ma lo dico in maniera positiva, non l'accezione provinciale nel senso di reprogrado, l'accezione provinciale nel senso di braccia aperte. E a Bologna, secondo me, questo manca. Pensiamo a Ferrara con il Torrione, con Ferrara sotto le stelle, con Internazionale, con Ibasquer, con Palazzo dei Diamanti. Insomma, con tante sedi assolutamente di qualità eccelsa. Quando chiedo a Maria Luisa Pacelli, la direttrice dei Diamanti, quando chiedo a Francesco Bettini, direttore artistico del Torrione, quando chiedo a Massimo Maisto, che è il Vice Sindaco, con importanti impieghi per quanto riguarda la cultura e i rapporti con i giovani, quando dico, ma qui bisogna, cioè, a grande merito, quando è una Ferrara capitale della cultura, perché, no, noi non ci pensiamo neanche a questo. Noi pensiamo a lavorare. Noi a tutto questo non ne vogliamo neanche sentire nominare. Se arriva bene, se no... No, se no noi continuiamo. Noi continuiamo e fanno veramente il loro lavoro in maniera straordinaria. Poi una passione per il territorio, ma questo è un altro discorso. Il lunedì spesso ci sono gruppi originali, diciamo, freschi, nuovi, no, giovani? No, almeno io ricordavo così. No, ma diciamo che questa... Pensa il paradosso. Questa è la matrice originale di come nasce il lunedì. Ah, vedi. Adesso, parlando anche con Alfonso Santimone, che è uno dei musicisti all'interno del Torrione, è arrivato il discorso in conferenza stampa che, fra le serate del venerdì, del sabato e del lunedì, non c'è più tutta questa gran differenza. Ottimo. Dove cadi, cadi, tra virgolette, che prendi bene. Sabato c'era Craig Table. Sì, che è un pianista eccezionale. Dead King, un batterista, quello dei Bad Plus. Ma arrivano dei messaggini, perché l'influencer... Sono arrivati, l'influencer. Ci ascoltano dalla Corsica, da Ravenna. Giuseppe Pintus dice, io negli ultimi anni sto ascoltando Gypsy Jazz, un mondo da scoprire, come hai detto prima, è una fiaba, ci sono tante fasi da superare. Ciao da Ravenna. Ui, grande Ravenna. Simone Rizzoli, ma con chiare origini bolognese. Bravi tutti e tre, il duo l'ho sentito la prima volta. in Romagna. Cioè, avete più pubblico di me, non esiste. No, io... Tu hai le tue influencer che hai detto, queste ragazzine di vent'anni... Influenze. No, senti questo. No, queste ragazzine non mi piacciono. Lui ha detto, queste ragazze di vent'anni... Poco più. Poco più di vent'anni mi seguono, mi accompagnano, si sono proposte... Cosa vuoi di più? Esatto. Già detto questa frase, uno potrebbe partire... Faccio anche la figura del vecchio Laido. Quando tu giri la cuffia, sotto c'è scritto... Laido. Sai come quando facevano con Laura? Con la Gigi che c'è la... Bene, e tu, William, adesso voglio chiedere una cosa a io, Paolo, perché io non mi ricordo più. Siccome poi William ha chiamato te, forse, non mi ricordo. Comunque, come ci hai conosciuto tu? Perché poi ognuno ha le sue storie, no? Io ho conosciuto la Fsi Duo perché suonavano per Stati, io ho conosciuto la Fsi Duo perché Paolo suona... Perché tu invece non mi ricordo come ci hai conosciuto, ti abbiamo conosciuto. Ma sinceramente non ricordo neanch'io, allo stesso modo però vi posso dire che non è per piageria e ci mancherebbe, anzi se no, che mi piacete. Quindi... Quindi chiudiamo la trasmissione. Questa è una dichiarazione d'amore. Che mi piacete, ascolto la vostra musica. In America non puoi neanche sudare, intanto mi ritrovo a canticchiare questa. Che grande. E a me è piacere... Mi ricordo, ne abbiamo parlato di quella lì per il fatto che sei un amante del caldo. Sì, amiamo il caldo. Amiamo. Te la frama del caldo. Ah no, tu non sei della tribù dell'estate. Io sono un po' più un vichingo... Ah, ho capito. Montanaro. Addirittura, io uomo di pianura. Paolo mi chiama... Quella che fa parte d'inverno della tribù dei piedi freddi e dei nasi gelati. Io sono così. Ma te sei anche una statura normale. Pensa a me, il sangue, come fa ad arrivare sul naso? Me lo stavo chiedendo, ma non... Devo averne due io, come le giraffe. Comunque sai che a me prendevano pure in giro, non per l'altezza, ma per il naso. Quindi mi dicevano, ma se tu contieni tutto il sangue su quel naso... Io avevo quelli del campetto che mi chiamavano Beppe Signori. Astuccio del naso di Beppe Signori. Ma dove andavi al campetto? A Collecchio, provincia di Parma. Non avevano coltelli, ma le parole erano lame. E però il soprannome definitivo, ci fu anche Amadeus giustamente, però il nome definitivo... Ma io che pensavo che Acciuga al mio fosse schifoso, lo trovo bellissimo. Sì, perché pesavo 70 kg. Però l'ultimo definitivo fu Krippa. Krippa, ti ricordi il giocatore Krippa del Parma? Da del Parma. Nel periodo d'oro del Parma, io ero tifosa del Parma, ovviamente nel periodo migliore. E questo era dotato di un profilo importante? Esatto, come il mio, quindi il soprannome fu Krippa, ma per tanti anni. Ma tu non hai mai sofferto di questo? Beh, insomma, parliamo, se mi fai qualche foto di profilo un po'... Ti ho provato a mettere di profilo, ti metto da qua un altro così si vede. Non vedi che c'ho il microfono proprio messo qui? Dopo facciamo in piedi, facciamo una foto da stesi, che ci siano tutti altri uguali. Certo, che bellezza. Dai, vi faccio anch'io una domanda. Vai. Perché io appunto sono un uomo di pianura, il mio massimo del viaggio, volevo fare un viaggio, ma gli impegni, una cosa e l'altra, poi mia moglie giustamente dice io ogni tanto prendo su un libro di poesie, parte, vado verso il mio delta, ho deciso di andare oltre il delta, ho deciso di andare in questa località sotto di fronte, la Croazia, immediatamente sopra la laguna veneziana, il nome è affascinante da Matti, ho visto delle foto, sono impazzito, per me sarebbe già un viaggio poter andare a Cavallino, tre porti si chiama questo posto, no? Benissimo, non so se lo conoscete, ma ok, perfetto. Venezia, sotto Venezia? Sotto Iesolo, sopra Venezia, finita la parentesi lagunare, ma voi che viaggiate in continuazione, ma come fate? Cioè, per me sarebbe una tragedia, te lo dico. Tragedia in che senso? Cioè per cosa? È fatica, no? Cioè viaggiare è faticoso, dipende dai come viaggi, sono delle volte, tante volte è faticoso, tante volte, è faticoso viaggiare. Quando facciamo tanti chilometri, tanti diffiri, cioè non è la volta singola, è quando si accumula uno dopo l'altro, a me che diventa faticoso, se invece hai dei giorni di decompressione, così diventa ok. No, la fatica per me è tornare. Ma certo, ma fa parte del viaggio. Sì, sì, quella è la mia fatica più grande, è dover tornare, perché se sto bene in un posto, il fatto di dover tornare è sempre, cioè come nelle serate, no? Se stai bene al tuo rione, poi dici, no, ma adesso domani mattina mi tocca, però vuoi stare lì, però sai che devi tornare, però c'è quell'ora e dici, no, no. Quindi in qualche modo o chiudi gli occhi e fai finta di niente, non guardi l'ora, lascia lì, oppure dici, vabbè, lo faccio, consapevole che ne ho fatte tante volte del giorno dopo che ho dormito niente, no? Una delle robe che odio invece di viaggiare è la valigia, fare la valigia è una delle cose più complesse. Beh, è facilissimo, tu devi pensarti nudo, io faccio così, e poi certo, è un'immagine, soprattutto se immagini me, è ributtante, però... Nudo con la cuffia, perché la cuffia non la togliamo. Perché da lì tu vesti e pensi a tutto quello che ti serve. Missione complica. L'ultima volta mi hai aiutato la Fra, aveva uno di questi tutti foglietti, con tutte le cose divise, tutto carino, tutto così, e ci abbiamo ragionato insieme, mi ha aiutato, ed è stato meno scioccante. Però devo dire che ho scritto anche un pezzo sul fatto di fare la valigia, c'è una parte di una storia, come odio fare i bagagli, da qualche parte inizierò, basterebbe una chitarra, un contrabbasso, perché no? Poeta. No, vabbè, grazie. No, è che veramente... Il poeta è l'influenza. È crippa. La valigia per me è terribile. La valigia è una borsa, sai che a Bologna è una borsa, e la borsa non è proprio... Io sai, l'apro lì, poi inizio a mettere un po' di cose... No, c'è... Mi rendo conto. Del resto la valigia è anche in copertina dall'ultimo... Esatto, la valigia di cartone. Ma tu invece in copertina qui, da noi, c'hai delle altre copertine? Io ho delle altre copertine, le abbiamo citate, è un fatto la diretta, visto che siamo verso il termine con noi, il disco A Love Supreme, quel grande John Coltrane, che troviamo in formazione... Che saluto. Assolutamente, no? Che magari una volta... Saluto. No, sta alleggiando con il suo spirito qua con noi, e più tardi al Torrione, no? Con McCoy Tyner grandissimo, pianissimo. Da Jimmy Garrison al basso, e quel delinquente di Elvin Jones alla batteria. Questa era la formazione tipica del grande John Coltrane, 1964, il disco che ha dato via a una sorta di più intensa spiritualità nel jazz. Arriviamo a qualcosa che è attualissimo per i giorni nostri, per me è il disco più bello di Mingus, Mingus Ahum, anche questa è una formazione stellare, un disco dove per la prima volta si darà importanza alla composizione, piuttosto che all'aspetto di solista al contrabbasso, come del resto Mingus sapeva fare. Ogni brano ha un significato ben preciso, la spiritualità... Sta fumando di brutto. Questo caso, eh sì, lui poi con la pipa, peggio di un bastardo, si definiva così lui. Come nel libro. Come nella biografia. Lui in un brano, una sorta di gospel, dirà al buon Dio di benedire il cinese, il giallo, il nero, l'indiano, il pelle rossa, l'ebreo, il negro e tutti. L'unico che devi maledire, non avere pietà, non avere pietà per me, perché lui era un po' tutto di queste etnie, aveva sangue da pelle rossa, afroamericano, indiano, insomma era un insieme di tutto ciò che purtroppo deve essere vissuto come un valore aggiunto. Allora, ma anche adesso se continuiamo così. Assolutamente, assolutamente. Infatti ti volevo dire, è molto molto attuale. È molto attuale. Hai ragione. Ma pensa che conflitti aveva dentro. Ma, ma ti era violentissimo. Eh sì, ma per forza. Violentissimo. Certo, come riuscire a essere un animo sereno quando sei... Quando sei... E poi parliamo della ghettizzazione dell'essere alto e del naso grande. Cioè non parliamo di niente. Non parliamo di niente, esatto. Quindi grandissimo Mingus a un 1959. Arte, una mia altra passione di cui non potrei fare meno, l'arte figurativa. Dave Brabeck Quartet, qui siamo nell'ambito del cool jazz. Per me è il suo disco più bello di questa formazione con Paul Desmond, Time for the Out, ispirato a i riflessi del grande Miro. Che è il mio pittore preferito, non so se lo sai. Ah, Vedi, ho portato anche... Chiudiamo con quello che secondo me è il disco più bello di tutti i tempi. Siamo sempre nel 1959, quel maledetto copione di Miles Davis. Sì, lui è un grande copione perché il funky jazz lo prende da Joe Zawin, il cool jazz lo prende da Guy Levans e Kind of Blue, il jazz modale, inizia con una scoppiazzata da un libro tecnico del grandissimo George Russell. Questo è uno star game più che una formazione di musicisti, Bill Levans al pianoforte, il Larry Bird della musica, Julian Adderley al sax contralto, potrebbe essere tranquillamente una guardia tiratrice veramente precisa, John Coltrane al sax tenore, il nostro Julius Sirving, Dr. J con questi balzi lunghi, spettacolari, Paul Chambers al basso, Jimmy Cobb alla batteria, Miles Davis è il leader di questa formazione, ovviamente alla tromba. Il disco di cui vi sto parlando è Kind of Blue ed è una produzione della Columbia, anche questo 1959. Dove è registrato quindi a New York? Sì, questo è stato registrato a New York ed è stato, per così dire, il via alla scrittura moderna del modale, cioè un aspetto che va a scindere il riff da quello che è l'assolo. John Coltrane si avvicinerà a questi suoni anche lui all'inizio degli anni 60 prendendo il soprano e interpretando My Favorite Things. Insomma, potete prendere questi quattro dischi e già farvi un vero panorama del jazz, insomma, no? Dischi da avere, questo è un disco da avere. grazie che me li avete fatti portare. Ma ho visto che avevi anche un'altra chicca, un'altra chicca perché la mia passione è la letteratura e la poesia. Questa è veramente una monografia di William Piano. È certo, di cosa dobbiamo? È un influencer. Per il momento ho tolto l'influencer per farvi vedere che nonostante la calvizia che sta avanzando, io mi sento ancora un super giovane e tengo i capelli lunghi. È un grande cambiamento quello dei 50 anni, non è più quello da bro con il taglio a box, quello proprio da ragazzo. Troviamo una foto di te da giovanissimo. Dopo la troviamo, la possiamo postare. Chissà, pochissime foto, poca roba. Tu non sai, perché magari qualcuno chissà dei tuoi amici quando l'ha messa. Maschiacci. 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 Che maschiacci. Ho scoperto questo poeta, disegnatore, incisore, pittore gallese, David Jones, che scrive un poema sulla Prima Guerra Mondiale, tra l'altro lo fa con, e non so con che coraggio l'abbia fatto, con una grandissima ironia. Lo sto leggendo, in effetti è un talento incredibile, vince un Oscar, viene ristampato in Italia alla fine del 2018 da Mondadori. Io ve lo consiglio, si chiama Tra parentesi, lui è David Jones. Questo scritto ha a che fare con alcune cose che ho visto, sentito, e a cui ho preso parte. Così David Jones inizia la sua ricostruzione in presa diretta della vita dei fanti durante la guerra 14 e 18, pubblicato nel 37 da Elliot e accolto entusiasticamente da Yitz, scusate, Oden, Daylan Thomas. Tra parentesi fonde prosa e poesia, e non è facilissimo, aggiungo io. Linguaggio colloquiale, musicalità profonda, il terrore della carneficina, i miti antichi, l'urgenza diaristica e una vertiginosa profondità storica. Mi limito a dire che lo fa con una grande dolcezza, lo fa senza avere timore di proporre qualcosa di terrificante, ma senza parole forti, quanto mai parole vere, quante mai parole tenere ed essere duri senza dimenticare la tenerezza, per me è un aspetto fondamentale. Come diceva il grande Ernesto C. Guevara. E con questo vi do appuntamento a domani, sempre sintonizzati con il Breakfast Club. Beh, che grande. Aspetta che faccio vedere la copertina anche di questo, che così rimane... Rimane, rimane come si può dire... Perché poi l'immagine conta, no? sennò... Eh certo. Tipo per me, che quando vedo i film non ne ricordo, ma se mi fai vedere la copertina del... La locandina. La locandina. Quanti cd comprati solo per la copertina? Quanti libri, quanti cd comprati solo. Vuoi sapere anche i cd? Così mi stimolo. No, no, no. Se volete trovare William Piana vediamo l'indirizzo oppure lo trovate lunedì prossimo al Torione o d'estate a Marina Romea fino a quest'anno, che l'anno prossimo ha Pinturicchio, come si chiamava? No. Cavallino? No, Cavallino Treporti ci voglio andare adesso. Benedetto iddio. Adesso voglio andare in questo posto. Sono arrivati un paio di commenti. Claudio e Colombarini le vostre interviste e incontri sono illuminanti un casino. Grandi. Grazie Claudio. Non merito tanto. Grande Willy ti sto ascoltando da chi oggi? Giuliano Passo. Grande Giuliano! Lui è numero uno tutti i tempi. Allora abbiamo lavorato. Spero che tu sia ancora all'ascolto perché finalmente possiamo parlare da tanto che ho una gran voglia di Chioggia è la mia seconda città. Chioggia mi spezza la voce nel parlare, nel raccontare quello che ho vissuto in un posto storicamente così meraviglioso. Un posto che fonda le radici addirittura in dominazioni genovesi. Pensa. Per poi arrivare come ultima città a inginocchiarsi al doge veneziano. Ma non sarà assolutamente facile la convivenza tra Venezia e Chioggia perché di base i ciosotti che io amo e i chioggiotti sono un pochino dei pirati diciamola come va detta. Lui è di origine padovana però Giuliano che saluto. Lui è un grande amante della montagna e infatti certo andiamo d'accordo perché ci siamo trovati colleghi non vi ho parlato della mia passione per i cimiteri e per la bellezza beh no ma come riniziamo la diretta ci vuole un'altra ora dovremmo fare un'altra puntata con William Piano voi cosa ne pensate? assolutamente Giuliano Giuliano grazie per aver scritto grande Chioggia su Chioggia sui cimiteri ma come abbiamo fatto ragazzi non parlare dei cimiteri ne parleremo nella prossima puntata perché anche io ho delle cose importanti viaggiare è faticoso ma se la meta è giusta si viene ripagati Laura Mezzetti assolutamente grande Laura è mia moglie non sto scherzando ciao Laura scusami quindi dei cimiteri non ci dici dici un accenno allora io vengo assunto da un'azienda che si occupa di luce votiva io sono elettricista esco da un lavoro di cantiere con una grande passione sono al termine della carriera cestistica la passione è quella della letteratura dell'arte che però voglio approfondire quale migliore occasione di avere una specializzazione all'interno degli atenei votivi come li ho chiamati o come i depositi della memoria senti le stagioni cambiare leggi le epigrafi e trovi il massimo della letteratura trovi il ricordo trovi la memoria trovi la storia trovi la musica trovi il momento con te stesso trovi il momento in cui parli con gli spiriti trovi il momento in cui veramente il territorio cambia cambia l'architettura cambiano gli spazi cambia la sensazione cambia veramente qualcosa di illuminante e del resto io stesso avevo la grande fortuna di avere un ruolo che portava la luce eterna era una sorta di ermete tresmegisto vi rendete conto ero ermes che viaggiava il dio il dio portavo la luce portavo la luce ma ti rendi conto il buon dio di che compito mi ha così dire assegnato cioè di dare la luce eterna non potevo sbagliare il mio era un lavoro socialmente utile cioè ho abbracciato delle persone che avevano perso dei cari da poco tempo è stata una cosa un'esperienza che mi ha cresciuto tantissimo ho letto tantissimo dentro i cimiteri ho trovato delle situazioni di confronto con altre persone come il con Giuliano Giuliano mangiavamo sempre il panino con la mortadella e intanto giocavamo a 3-7 quando c'era il momento di pausa e se per caso io questa volta sono rimasto un po' indietro con i lavori lui non ci pensava due volte pur di farmi riposare lui è custode io elettricista ma lui interrompeva il suo lavoro e veniva con me a finire il lavoro che dovevo portare a termine perché così anch'io avessi modo di riposare e poter stare a giocare un po' di tempo insieme sono state esperienze veramente forti Chioggia è meravigliosa su Chioggia vi potrei raccontare di tutto e di più come quando fui aggredito appena arrivato a Chioggia beh appena arrivato poi c'è tempo no per noi non c'è non c'è nessun problema sei tu che devi andare via allora arrivo mamma mia poi siete andati a stanare ma è stato Giuliano mannaggia è stato Giuliano Basso tra l'altro ti rendi conto la Franca Riporti Giuliano Basso Marco Lanza ma c'è un problema di Chioggia che tutti si chiamano Boscolo e quindi bisogna inventare un detto che è ufficiale cioè Boscolo come cognome Boscolo come cognome il cognome ok molto frequente sia a Chioggia che a Sottomarina quindi automaticamente ci vogliono i cosiddetti scusate la ripetizione detti per cui c'è Ernesto Boscolo Caporale magari aveva un papà graduato nell'esercito Ernesto Boscolo Cegion magari veniva da una famiglia di persone particolarmente sovrappreso Ciccione Brasiola si occupava di carne di bracciola Cainasso faceva il fabbro il catenaccio e questo è il modo di distinguere tutti i Boscolo tutti i Tiozzo anche il Tiozzo è un cognome estremamente diffuso ho un amico che suona che si chiama Cristian Tiozzo ok e questa già è una cosa che mi ha affascinato tantissimo è un venerdì dico questa poi chiudo poi andiamo via dai allora è un venerdì sono al disco d'oro dove sto spendendo praticamente tutta la liquidazione per comprare dei dischi mi arriva una telefonata al giorno dopo devo chiaramente stare a casa perché inizia il weekend la telefonata ha questo contenuto pronto Piana sì è il titolare dell'azienda per cui lavoro abbiamo vinto l'appalto al cimitero di Chioggia ci sarebbe da fare il sopralluogo dico sì beh poi lunedì no c'è da andare domani mi viene una arrabbiatura addosso che veramente inizia a prendere a pugno ogni cosa che mi capita a tiro non è possibile cioè anche sabato alzarmi alle 4 per andare in sto posto che è là in me ma dai ma come è possibile vabbè la prendo persa devo andare parto la mattina mi alzo sono le 4 mi trovo una strada che praticamente dall'uscita di Boara Pisani si accompagna verso il mare passando queste piccole frazioni fino al sbocco sulla laguna veneziana io non sapevo che lo spettacolo che mi sarebbe presentato davanti fosse di tale intensità passo per queste stradine seguendo l'Adige il gorzone dove veramente incontri la vita la morte incontri le case avvolte dalla nebbia incontri le persone che si svegliano e vanno a lavorare incontri queste donne anziane in bicicletta incontri veramente il poter respirare l'umidità nella maniera come dico io però più viva finché non ti ritrovi veramente immerso in una situazione surreale veramente in un contesto magico finisce questa strada il sole sorge illumina di rosso acceso tutta la laguna veneziana e ti rendi conto del matrimonio alchemico che hai vissuto cioè tutta questa strada è un percorso iniziatico quando sei davanti a questo spettacolo entri dentro la città di Chioggia entri dentro la città di Chioggia io rimango ancora così con gli occhi pieni di meraviglia e mi reco in una pasticceria perché voglio fare colazione voglio fare colazione ma sono completamente inebetito io non sapevo che gli abitanti del posto soprattutto alla mattina pescatori contrabbandieri persone con un certo nervo io entro dentro e si alza in piedi al contempo al tavolo di quattro energumeni uno alto quasi come me completamente calvo con una cicatrice che gli andava di traverso sulla faccia mi mostra il pugno sotto il mento e mi dice mi non stesi di più grandi di ti io ancora inebetito dalla bellezza lo guardo e lo dico signore io non ho dubbi sicuramente ma io volevo solo prendere una pasta e un cappuccino ma sa cosa le dico potremmo fare colazione assieme gelo i suoi amici non sanno dove guardare anche lui ovviamente non sa cosa rispondere facciamo colazione assieme lui non dice una parola dopo di che tutto va a scemare io ancora volto in questa nuvola di bellezza faccio il mio lavoro mi ritrovo in questo contesto di cimitero che è sulla spiaggia di queste croci che si perdono nella nebbia in parte in mezzo al sole questi nomi strani rimango già volevo già tornarci il giorno dopo ma per dirti da com'era partita la cosa la settimana dopo ci devo tornare perché ufficialmente la manutenzione è cominciata ritorno vado nello stesso bar faccio colazione vado per pagare il barista stesso mi dice buongiorno presidente no per lei qui è tutto gratis io non ho mai più pagato una colazione in quel bar lì ma ti rendi conto per dirti come io non ho mai buongiorno presidente per lei qui è tutto gratis è diventato presidente presidente hai capito dopo di che ovviamente la cosa l'ho cercata di contenere perché non mi sembrava espremo da una parte esattamente però questa è chioggia chioggia è estrema hai capito è di una bellezza è presente quando respiri il dolce del carburante che ormai si perde nell'acqua salata facendo questo contrasto agrodolce quasi nauseabondo ma del quale non puoi fare a meno la sabbia sporca è la vita chioggia è la vita ecco perché quando vai a marina romè tutta la zona vicina adesso non parliamo più di questo perché è appunto cavallino tre porti è appena sopra tutto ciò e non ci sono mai stato perché devi assolutamente provvedere devo assolutamente provvedere ma quanto vi ho annoiato sono le sono le 6 e 07 ciao ma ti posso fare un'ultima richiesta velocissima sì che avevo seguito un po' perché io sono un po' un runner e ho visto che tu hai avuto un grande successo e hai riuscito a correre accidenti sì 20 chilometri 10 chilometri io il mio record di corsa è 24 lo faccio perché ho appetito io mangio molto e quindi automaticamente devi continuare a tenere un po' ma perché eri ingrassato e avevi un traguardo che dovevi assolutamente sì esattamente io ero 131 chili e sono riuscito ad arrivare a 97 addirittura troppo perché mi ero esaltato con la corsa e con lo sport e con le diete ma adesso sono un pochettino in rialzo però sono in una zona ancora bisogna non alzare il gomito che purtroppo è un mio vizio eh vabbè allora rimettiamo vivendo nei locali sera notturni non è facile rimettiamo questa cuffia da influencer per salutare gli amici che non vorrei mai che poi dopo non si sentissero abbandonati capito perché sei una guida adesso eccolo lì ecco grazie allora William Piana chief the chief Robert Parrish doppio zero che non è il gabinetto doppio zero vi metteremo nei commenti il link ai suoi programmi alla sua pagina insomma se lo volete seguire domani mattina su Radio Fujiko domani mattina su Radio Fujiko seguite Radio Fujiko fatevi domande intervenite perché è veramente un bel pozzo di tante cose da tanto e altro tanto ha da dire se siete arrivati fino a questo punto della diretta condividetela o anzi anche meglio parlatene con qualcuno che pensate possa essere interessato proprio agli argomenti di cui abbiamo parlato la trovate anche come podcast al più presto quindi potete ascoltarla se avete visto un pezzettino ve la volete sentire con calma in macchina andando a correre oppure andandone in giro per i cimiteri esattamente oppure quando visitate i cimiteri quando qualcuno vi parla voi avete quei piccoli auricolari fate così interessatissimi perché magari l'argomento di cui vi sta parlando questa persona non interessa è magari quello che avete aspetta che William sì e voi promettete di non rubarmi mai il mestiere perché siete bravissimi guarda guarda assolutamente no anzi facciamo così chiudiamo con la sigla dai cosa dite ciao a tutti grazie grazie grazie